Buongiorno, 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 mi ha scritto un mio amico dell'America che dal sud, Paoli. Ho sempre venuto dal Cielo a San Paolo in Brasile cinque mesi fa perché mia figlia è stata qui e ha avuto il terzo frutto che è una frutta. Il grande è la cinque anni, una frutta e tre, e poi viene l'ultima. Sono due sette che sono più belle per un nono, un vero paradiso, braccio leone, gioie con che latri, tire donie che altre, e con loro vio di pipins, ridi, vai, cori ca e la, colà, mangia, bevi, fas la cacca e la pipì. Tutto in sessante metri quadri, sempre tutto un movimento, un paradiso. che non si insegna che il nostro nostro amico è che il bielo dipende tanto proprio di noi. Buona giornata e buona vita.